Nel summit dell'Associazione Industriale Bresciana di quest'anno, il congresso, il sesto in cui si parlerà di innovazione nel settore terziario, il centro della discussione sarà il fattore umano. Perché in una conferenza dedicata all'innovazione tecnologica nelle imprese? Perché ha spiegato chi ha organizzato il summit non siamo più negli anni 70, è il fattore umano che crea luoghi di lavoro vivibili. Non c'è, secondo il nostro punto di vista, possibilità di fare innovazione nelle nostre imprese, nel nostro territorio, se non attingendo alle capacità delle persone. La mattina del 18 novembre al Museo dell'Industria e del Lavoro di Rodengo Saiano sarà dedicata alle imprese, una sessantina quelle che si sono già registrate. Si parlerà di banda ultralarga e delle opportunità che aprirà. È indubbio che la banda larga rappresenterà per gli operatori una grossa opportunità di sviluppo del loro business, ma anche delle opportunità di lavoro. La discussione, è stato garantito, sarà vivace, aperta e dinamica, proprio come nella seconda parte della giornata, il summit continuerà dalle 14. Ritmo veloce si confronteranno due imprenditori per volta, ad esempio Giancarlo Turati, CEO di Fasternet con Martino Troncatti, ArtSana, Maria Chiara Franceschetti, CEO di Geffran con Franco Stefani, presidente di System Group. Nel mezzo gli interventi di ragazzi neolaureati all'Università degli Studi di Brescia. Questo permette alle imprese di comprendere, di avvicinarsi anche alla scuola e all'università, quindi alle risorse umane, per tornare al fattore umano, che saranno i manager del futuro. Chiuderà il presidente di AIB, Marco Bonometti.